Ciao a tutti da Saludatore, qui abbiamo un grande, un campione, cosa possiamo dire? Vincenzo Maenza, allora abbiamo un Nico, l'associazione Nico, le tue sensazioni? Beh, è un'associazione molto bella, una sensazione che è nata 15 anni fa e adesso, diciamo, io purtroppo per problemi di lavoro ho dovuto cedere alla palla un mio carissimo Nico Nico, una persona molto valida, una persona validissima e mi fa piacere perché sono sicuro che lui manderà avanti questa situazione in una maniera migliore Ecco, una grande avventura, ci sono le eccellenze per ogni disciplina Beh sì, è chiaro che tutto è a scopo benefico, quindi ci saranno tutti gli spoggiati, la lotta, la karate, al calcio, alla scherma quindi è una cosa veramente bella perché noi siamo veramente tanti, sia campioni del mondo, sia campioni olimpici quindi secondo me è una bella realtà Ecco, sport e solidarietà, la migliore cosa Questa è la migliore cosa, quando si unisce lo sport è sempre molto molto bello Ecco, un grande colubio, allora io per auspicio buono ti regalo la manina del saluto a voi Ah, grazie Come ho detto ce l'abbiamo, e poi salutare tutti i tuoi fan Grazie mille, grazie, gentilissimi, molto gentili Grazie maestro, ciao